Torno a casa, sicuramente. Conosci questo posto? Ma appena appena. No, no, sono contento che sono tornato e questa è casa mia. Però devo ringraziare anche la Lazio che mi ha dato l'opportunità di venire qui e il Presidente Preziosi che ha fatto questo sforzo per portarmi. Dopo quattro anni e mezzo, una nuova avventura. Con quali stimoli? E' una grande sfida questa, quindi bisogna mettersi sotto, lavorare bene e far bene perché è importante. Per me è una sfida, quindi ritornare qua è come il primo giorno che sono arrivato. Che geno ti sembra quello in cui arrivi per l'ennesima volta? Buono, ho visto la partita domenica, ho fatto una grandissima partita, grande spirito, grande vittoria contro una squadra veramente forte. Palazzo Girardino Scuro? Non lo so, questo lo deciderà il mister. Io mi metto a disposizione, devo lavorare bene e ho tanta voglia di far bene qui. Già pronto per Palermo? Non lo so, adesso vediamo come... quello che dice il mister, non lo so, adesso sono veramente molto emozionato perché questa è casa mia, quando sono andato via pensavo di non ritornare più, oggi a un anno esatto sono andato via il 18 gennaio l'anno scorso e ritorno il 18 gennaio quest'anno, quindi vediamo quello che succede.